Siamo molto contenti di ospitare qua a Perugia UAUIU, io sono Gabriele Biccini della coalizione di associazioni che ha supportato e promosso la candidatura di Perugia come capitale europea dei giovani nel 2017 e in questa giornata incontreremo in due occasioni i ragazzi dell'associazione europea, di questo network europeo molto importante e con loro condivideremo la nostra candidatura, la nostra voglia e volontà di cambiare la città e di dare un aspetto giovane a questa città che ne ha un gran bisogno e ringraziamo l'associazione UAUIU per aver scelto Perugia, per aver voluto confrontarsi con noi, con i spazi qua all'Adisu e con tutte le realtà giovanile che vivono nel territorio e che nel territorio implementano progetti per i giovani dove i giovani sono protagonisti. Spesso ci chiediamo quale può essere il ruolo dei nostri giovani nella costruzione delle società che dovranno ospitare le future generazioni. Ebbene, l'Adisu prova a contribuire a dare risposta a questo interrogativo. In questi giorni noi abbiamo 32 giovani provenienti buona parte dall'Europa continentale che probabilmente saranno degli architetti molto interessanti nella costruzione di un modello di società, almeno un'idea di società che vorrebbero costruire per il loro futuro e per le generazioni che, come dicevano, dovranno arrivare. L'Adisu vuole essere protagonista perché l'Agenzia per il diritto allo studio anche questa volta vuole parlare una lingua che riesce a raggiungere anche al di là del continente europeo un po' tutti i linguaggi che si incontrano. Avere 32 giovani che arrivano selezionati, che arrivano da diverse parti del continente è una grande occasione che mette alla prova innanzitutto le capacità di chi vuole creare un'occasione per la costruzione di queste società ma soprattutto mette questi giovani nella condizione di essere effettivamente protagonisti. Oggi loro sono gli attori del cambiamento, possono esserlo non solo con le idee ma se le idee saranno vincenti anche con la declinazione di queste idee. L'Adisu è l'idea del diritto allo studio a 360 gradi.